Caffè 300 Racconto di Simone Casi Speciale 300 iscritti Era una serata tranquilla al caffè 300, come al solito del resto. Non c'era mai una giornata indaffarata al caffè 300 e in verità non c'era mai stata, né si sarebbe mai verificata. Era proprio quello che rendeva speciale l'asteroide Geraldina, dal quale il popolare caffè prendeva il nome. Nonostante il continuo via vai che animava lo spazio porto dell'asteroide, che almeno nominalmente rientrava sotto la giurisdizione della federazione umana, ma che in realtà si faceva bellamente gli affari propri, i clienti non abbondavano mai e nemmeno scarseggiavano. Era un posto per pochi, e quei pochi preferivano rimanere tali, gelosi del proprio posticino tranquillo e riservato, per loro unica isola di pace nell'intero creato. Su Geraldina non c'era la smania di colonizzare e fare affari come in tutti gli altri possedimenti umani del Sistema Solare, federati o appartenenti ad altre nazioni, Stati Uniti, Francia, Germania, Kalmar o Russia che fossero. Era un semplice asteroide di passaggio, una stazione dove gli avventurieri e i pionieri si fermavano durante le loro peregrinazioni verso Nuovi Lidi, sostando più o meno a lungo in uno dei numerosi ostelli di Dubbio Gusto, prossimi allo spazio porto. Ma il caffè 300 non era affatto vicino allo spazio porto, anzi, era proprio dentro il centro storico di Geraldina, se così si poteva chiamarlo, perché non aveva più di 30 anni. La città aveva lo stesso nome dell'asteroide e ne era il capoluogo. C'erano numerosi altri piccoli centri, sui 80 chilometri di diametro irregolare dell'asteroide, uno dei più grandi della sua zona di fascia, e anche in quelli si viveva in un'atmosfera rilassata, forse anche più che nella città di Geraldina, un'atmosfera talmente rilassata da essere soporifera e quasi noiosamente mortale. No, a Geraldina città c'era la giusta dose di rilassamento, intervallato da quei pochi pizzichi di novità e attività che fanno sopportare il dolce ozio. C'erano le miniere, ma la maggior parte dei Geraldini viveva non certo senza far nulla, ma quasi. Non era necessario aver molti soldi in tasca per sostentarsi a Geraldina, né darsi da fare eccessivamente. I suoi abitanti erano locandieri, oppure impiegati dei centri di ricezione e informazione, loro sì un po' più frenetici, oppure ancora piccoli artigiani orefici o proprietari di negozi di vario genere. Molti, invece, erano semplicemente pensionati dei pianeti interni, individui stanchi dei ritmi frenetici del XXII secolo e intenzionati a ritirarsi nella tranquillità e nel silenzio dello spazio siderale. Le strade di Geraldina, dove le auto erano rare non per povertà ma per praticità, erano costantemente silenziose, in ogni periodo dell'anno e a ogni ora del giorno, giorno ovviamente scandito in maniera artificiale, date le condizioni assai aliene dell'asteroide rispetto alla Terra. I moduli strap che formavano Geraldina città erano decine, forse addirittura un centinaio, ma raramente in essi risuonavano i echi dei tipici rumori di una metropoli, cosa che del resto Geraldina città non era affatto. I passatempi preferiti dei Geraldini erano la contemplazione, il riposo e la siesta. Il Geraldino tipico non era grasso, ma basso e ben piantato, cosa favorita dalla gravità più ridotta che sulla Terra e sui pianeti e quindi accentuata dai sistemi dei moduli strap. Ben nutrito insomma, non pigro ma sicuramente non iperattivo. Attività molto diffuse erano la meditazione, la lettura, la scrittura e le degustazioni di vini, tè e caffè. Bevande ovviamente tutte importate. La coltivazione sugli asteroidi era ancora in fase sperimentale, e i Geraldini non erano certo così intraprendenti da installare una piantagione di prova sulla loro casa. Il caffè 300 era uno dei posti più rinomati dove poter degustare i gusti noti e quelli non noti, novità di recente importazione dalla Terra, dalla Luna o da Marte. Molto popolare era il forte caffè Monte Olimpo, marziano, dal sapore secco come i rossi deserti del quarto pianeta interno, speziato dalle asperità del terreno e dai pochi aromi che attecchivano sugli altipiani bonificati. Ma in fondo era una moda, e presto, come tutte le mode, sarebbe passata, e si sarebbe tornati a bere il tè Earl Grey, oppure l'ottimo frizzante depressurizzato che era ormai un prodotto caratteristico delle colonie federate venusiane. Il proprietario del caffè 300, il signor Gerald, come poteva essere altrimenti, era stato uno dei primi coloni a giungere sull'asteroide, ed era ben voluto e rispettato da tutti. Era l'unico vero dipendente del proprio caffè, e preferiva che moglie e figli rimanessero a casa a fare i loro comodi. Era per lui un piacere troppo grande gestire quel piccolo paradiso, poiché era il luogo dove si sentiva meglio e più felice. Non si faceva molta pubblicità, e la clientela nuova non era molta. Il suo caffè era frequentato molto più dai giraldini che non dai forestieri, ma qualcuno ogni tanto ne arrivava, e Gerald, per non farsi mancare nulla, aveva predisposte alcune piccole e confortevoli camere al piano di sopra del caffè, che da solo occupava un intero quarto del suo modulo strap. Ma chi pernottava non era molto comune. Così, la maggior parte del tempo, il signor Gerald stava seduto dietro al bancone, a fumare un sigaro aromatizzato, il cui fumo era aspirato fuori da potenti pompe che lo immettevano direttamente nello spazio, risparmiando la preziosa aria della colonia isolata dall'universo esterno, dal puzzo di tabacco. Se proprio si sentiva molto attivo, a parte servire i clienti, rimetteva un po' d'ordine nella dispensa. Oppure si occupava del registro delle nuove ordinazioni da fare sulle varie colonie, lavoro reso abbastanza facile dalla mastodontica rete commerciale federata, efficientissima ed interconnessa con praticamente ogni angolo del sistema solare, anche coi mercati delle nazioni ancora indipendenti ed ostili alla filosofia politica federata, che ormai una buona metà del pianeta Terra aveva abbracciato senza pensarci due volte. Con gli stranieri, Gerald era molto ben disposto e ogni volta che la lieve campanella tintinnava sopra la porta del caffè 300, accoglieva il nuovo arrivato con un sorriso, tanto più largo quanto meno nota gli era la sua faccia. Quando lo straniero entrò nel caffè, scorse immediatamente il proprietario, che lo fissava da dietro il bancone con un enorme e bonario sorriso. A parte un altro paio di avventori semi-addormentati, non c'era nessun altro nel salone principale del caffè, e ciò lo fece sentire un po' più a suo agio. Si diresse a grandi passi verso il bancone e prese posto, appoggiando il proprio borsone sullo sgabello accanto al suo. Era stanco e polveroso per il lungo viaggio interstellare appena fatto, e prima di ripartire per angoli ancora inesplorati del cosmo, voleva riposarsi un po'. «Salve!» lo salutò il proprietario. «Cosa prende di buono?» «Mi basta qualcosa di caldo», fece lo straniero, che non amava usare più parole del dovuto. «Ottimo! Caffè o tè?» Lo straniero ci riflette un po' su. In un primo momento avrebbe voluto rispondere caffè, ma si era subito reso conto di averne bevuti già troppi dal sapore dubbio sulla navetta sconquassata che l'aveva portato lì da Marte. Cambiare per una volta non avrebbe potuto fargli altro che bene. «Tè, per favore!» «E allora a te sia!» Il proprietario gli presentò un'ampia gamma di gusti tra cui poter scegliere, ma lo straniero scrolò le spalle e disse all'altro di fare, perché lui non se ne intendeva. L'uomo allora sorrise ancora, sfilò una fra le centinaia di bustine presenti nella grande custodia, bustine di vera miscela di tè, non la solita robaccia liofilizzata, e si misa a preparare la bevanda. «Se intanto si vuole accomodare», gli fece il proprietario di spalle mentre preparava il tè. «Sì, sì», rispose distrattamente lo straniero, preso dai suoi brevi e cruciati pensieri. «No, intendo, se intanto vuole sedersi su una delle comode poltrone qui a lato, sarò contentissimo di venire a servirla». «Ah, no, 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 non importa. Non mi fermo molto, devo ripartire». «Avanti!» «Qualche minuto di rilassamento potrà pure concederselo, no?» «Il tè non è una bevanda che si trangugia, ma che si gusta goccia dopo goccia. Su, non faccia complimenti, si sieda su quella poltrona laggiù vicino allo sportello del bancone». C'era qualcosa, nella voce pacata ma al tempo stesso sicura dell'uomo, che fece desistere lo straniero dall'obiettare. «È un impertinente», pensò. «Ma forse dopo tutto potrebbe aver ragione. Non devo ripartire proprio subito». E lo straniero, raccogliendo il proprio grande borsone, andò a sedersi sulla poltrona indicata. Un avventore nel frattempo era uscito, mentre un altro era profondamente addormentato su un altro seggio poco lontano, dal quale si udiva un sommesso russare. Mentre si sistemava, pensò di non aver avuto una brutta idea a venire lì. Era stato più forte di lui. Una volta che la navetta l'aveva scaricato su quell'asteroide intermedio, il mal di testa da lungo viaggio era diventato troppo forte ed opprimente per essere alleviato in uno degli squali di ostelli vicino allo spazio porto. No, aveva avuto bisogno di fuggire, di scappare in mezzo a quelle strade che di norma chi transita per quella regione stagnante del sistema solare non si sogna nemmeno di percorrere col pensiero. Era così che aveva trovato quel caffè, di cui non aveva nemmeno letto bene l'insegna, e tuttavia non si stava affatto pentendo di esserci entrato. L'atmosfera era calda e accogliente, i rumori nella sala suonavano come se fossero vattati, e il silenzio induceva un innato senso di pace e tranquillità. «Sì, credo che il tè mi piacerà», riflette, «di qualsiasi gusto sia». Qualche minuto dopo, il proprietario venne per servirgli il tè, che gli portò in una piccola teiera, accompagnata da una grande e larga tazza, un cucchiaino e una zuccheriera. «Quanto le devo?», chiese lo straniero, che non voleva aver conti in sospeso con nessuno. «Oh, non si preoccupi», fece il proprietario. «Si goda il suo tè, si riposi un po', sistemeremo tutto con calma dopo. Anzi, se non le dispiace, mentre beve mi sistemo qui vicino a lei per fumare, così almeno mi farà un po' di compagnia». E glielo rispose, e l'uomo lo prese come un sì. Se ne andò fischiettando, e mentre lo straniero stava mettendo qualche cucchiaio di zucchero nel proprio tè, andò a mettersi su una sedia proprio dietro allo sportello del bancone, sotto la ventola del ricambio d'aria e di fianco alla poltrona dove stava lo straniero. Mentre egli girava la propria bevanda col cucchiaino, il proprietario si accese un piccolo sigaro e cominciò a tirare ampie boccate, e l'aroma di tabacco cominciò presto a soleticare il naso dello straniero e ad invadere la sala, senza però soffocarla. Per un po' nessuno parlò. L'uno intentò a bere e l'altro a fumare. Lo straniero cominciò a consumare il proprio tè, dapprima a piccoli sorsi, poi, trovandolo di suo gradimento, prese a berlo di gusto. Era caldo al punto giusto e senza essere bollente, e possedeva un gradevole sapore fruttato e indefinito, che tuttavia, per non sembrare uno sprovveduto, non osò chiedere al proprietario. Nel frattempo egli lo osservava, tenendo tra le mani il proprio sigaro, che si accorciava sempre più di minuto in minuto. «Le va di fare due chiacchiere?» gli chiese infine il grasso e il grosso omone. «Da queste parti non viene mai molta gente nuova, e qualche notizia dal sistema interno, se ce ne sono, non sarebbe male». Lo straniero non rispose subito. Non aveva molta voglia di parlare, né di pensare, né di fare qualsiasi altra cosa che dovesse impegnarlo più del minimo necessario. Tuttavia, il tono dell'altro era troppo amichevole e rilassante, e non poteva essere scortese. «Se vuole», disse. «Ma non ho granché da dire. Ultimamente non è successo niente di che da nessuna parte, che io sappia». «Da dove viene?» «Da Marte». «La parte federata, immagino». «Certo». «Ed è nativo di lì?» «Beh, no. Ci sono immigrato qualche anno fa e ho lavorato per un po' nelle miniere dei Monti Tarsis». «Ho capito. Doveva essere un lavoro molto impegnativo». «Sì, abbastanza». «E come mai ha voluto venir via?» Le solite storie. La paga non era un granché, e nemmeno le mie conoscenze. La zona in cui stavo, poi, dopo Mansfield, era diventata parecchio depressa e ben poco sicura. «Ah, sì, ricordo. Brutta storia, brutta storia. La federazione non ci ha fatto una bella figura, soprattutto con gli Astiani. Non abbiamo dato gran prova di noi ai nostri vicini interstellari in quel momento?» «Ah, fosse stato solo quello. Gli americani erano furiosi. Fra poco ci scappava la Quarta Guerra Mondiale. Beh, in fondo nemmeno di Biasimo. Tutti quei morti. E tutto per una stupida roccia di venti metri. Insomma, capisce, Marte non era diventato un bel ambiente, e ho preferito andarmene. A qualche meta in particolare? Pensavo a Giove più che altro. Sono per provare a trovarmi qualche lavoretto minerario su Callisto o Ganimede, a seconda di come mi girerà. Solo? Ho sentito che sulle lune di Giove ci sono parecchie altre cose interessanti da fare. Beh, sì, l'ho sentito anch'io. In effetti sarei curioso di provare a farmi assumere negli allevamenti ittici di Europa. Mio zio era pescatore dilettante, sicché qualcosa ne so. Beh, buon per lei. La conversazione col proprietario stava diventando piacevole. Si chiacchierava volentieri con quel tipo, e lo straniero continuò a parlare a ruota libera. Male che vada, potrei tentare ancora più in là su Saturno, continuò. In tutte quelle lune rocciose un posto da minatore si troverà di sicuro, e poi ho sentito che cercano coloni per Titano. In qualche modo comunque me la caverò. Sì, penso che non avrà difficoltà. C'è sempre bisogno di gente volenterosa oltre la fascia. Là lo spazio disponibile è ancora sterminato, e ne avanzerebbe anche se tutti gli uomini ci migrassero in massa. Che dico? Anche se tutti gli astiani ci migrassero in massa? Già, lo credo anch'io. Sembra che il nostro sistema solare sia molto più grande del loro. È per questo che sono diventati così intraprendenti verso l'universo esterno. Penso che fossero venuti qui vicino al sole per vedere se potevano colonizzare qualche posto anche da noi. Così pare. Per fortuna, che qui ci siamo nati per primi. non che manchi lo spazio per tutti e due, comunque. Fosse per me potrebbero venire anche qui a Geraldina, c'è ancora un sacco di territorio vuoto. Ma non ha paura che possano dar fastidio? Sembra così tranquillo qui. Oh, per niente. Anzi, da quel che ho sentito, anche gli astiani sono tipi calmi e riservati. Sarebbero solo del valore aggiunto. Se lo dice lei? Sì, certo che lo dico. Ormai abito qui da più di trent'anni. Anzi, sono stato uno dei primi a venire e non è mai successo nulla di grave o di strano, né tra i vecchi né tra i nuovi arrivati. Qui chiunque è il benvenuto, sia che sia di passaggio, sia che si voglia fermare. In entrambi i casi, tanto meglio per il mio piccolo caffè. Tra un discorso e l'altro, lo straniero si era bevuto tre tazze di tè e il proprietario aveva quasi finito il suo sigaro. Gli aveva fatto piacere conversare, ma sentiva che era arrivata l'ora di levare le tende. Posò la tazza e afferrò il suo borsone. Bene, fece. Il tè era molto buono. Quanto le devo? Oh, va già via? Esclamò l'altro, stupito. Ma è appena arrivato. Resti un altro po'. Non posso, devo andare. Ho la coincidenza per Giove tra un'ora e quei controlli e tutto dovrei farci la propria appelo. Oh, ma deve proprio andare. C'è così tanta fretta di arrivare su Giove. Per quel che ne so, partono 4 o 5 al giorno di quei trabiccoli e i biglietti dovrebbero essere intercambiabili. Si fermi un altro po', si riposi, che quei viaggi non sono mai facili da sopportare e glielo dico io che mi son fatto tutta la strada fin qui dalla terra. In effetti aveva ragione. Aveva corso fino a quel momento e un'oretta in più di tregua se la poteva anche concedere. Va bene, disse. Però voglio pagarle subito il tè. Quanto le devo? 20 crediti. Solo? Era un tè, mica un calice di vino venusiano. Lo straniero pagò con la sua chiavetta i 20 crediti richiesti e nel frattempo che il conto veniva saldato il proprietario continuava a chiacchierare. Che scortese che sono, diceva. Finora non le ho nemmeno detto il mio nome. Piacere, sono il signor Gerald. Gerald, fece lo straniero divertito. Eh già, forse è anche per questo che decisi di venire qui quando venne fondata la colonia. Stare in un posto che si chiama esattamente come me non capita tutti i giorni, no? E poi mi fa sentire più a casa di quanto non fosse su quella palla di roccia e acqua. Sì, la capisco, anche per me è così. Se devo essere sincero, la terra non mi è mai piaciuta. Troppa gente, troppo poco spazio, troppe poche opportunità. La luna poi ormai è uguale. Su Marte stavo bene, ma, come le ho detto, alla fine ho preferito venire via. Nel sistema esterno spero di trovare quello che fa per me. Ma sì, ma sì, lo rassicurò il signor Gerald, per poi rifletterci un attimo. Sa, anche qui su Geraldina ci sono delle miniere. Ah sì? E cosa estraggono? Le solite cose, suppongo. Ferro, rame, nickel, un po' d'oro. La paga non è stellare, ma, se è la tranquillità che cerca, questo è il posto giusto. Sono sicuro che non esiterebbero ad assumere un buon operaio come lei. Dice? E perché no? Qual è la sua mansione specifica? Beh, su Marte mi occupavo delle macchine strattrici, soprattutto dei lavoratori meccanici. Mi assegnavano una cava e io mi occupavo di gestirla per tutto il giorno. Dirigevo i robot e cose così. Oh, beh, allora non avrà difficoltà qui, dato che i processi sono gli stessi. Lo straniero ci pensò un po' su. Quella prospettiva, in fondo, non era poi così malvagia. Beh, volendo, potrei farci un pensierino, ammise. Tanto Giove e Saturno non scapperanno. Mi fa molto piacere, rispose il signor Geraldo allegro. Qui sarò sempre il benvenuto. Come ci si arriva a queste miniere? Chiese allora lo straniero. C'è la ferrovia. Passa per tutti i centri di Geraldino almeno due volte al giorno e in un'ora o poco più si dovrebbe arrivare alle miniere. Poco prima lo straniero era stato al gioco quasi per scherzo, ma più ne parlavano e più era allettato da quella prospettiva. In fondo, cosa poteva avere quel posto e meno di Giove, Saturno o qualsiasi luna? Non l'aveva mai sentito nominare, è vero, ma in quanti posti del sistema solare era ormai arrivato l'uomo? Nella fascia degli asteroidi c'erano più rocce fluttuanti che persone sulla Terra e ogni abitante avrebbe potuto prendere possesso di migliaia di corpi senza che ce ne fosse penuria per le altre genti. Se tutta Geraldina era come quel caffè sarebbe davvero stata una rivelazione. Devo dire che le sue parole mi hanno interessato, fece lo straniero. Non ci rimetto nulla a rimanere qui per un po'. Conosce mica qualche albergo economico qui in città? Non mi va di andare in quei posti allo spazio porto. Oh, anch'io tengo delle camere, sorrise il signor Gerald. «Quanto penso di fermarsi?» «Mmm...» esitò lo straniero, «insicuro sulle proprie disponibilità monetarie?» «Dipende». «Se il problema ha il prezzo, non si preoccupi», lo rassicurò l'altro. «Una camera ha l'affitto a 100 crediti a notte. Per 175 offro anche un pasto, mentre per 200 entrambi». «Beh, per un paio di giorni allora potrei anche fermarmi, vedere che occasioni ci sono, insomma». «Due giorni? Facciamo così. Per una pensione completa sarebbero 400 crediti, ma lei mi sta simpatico, per cui me ne bastano 300». «Dice davvero?» «Ma certo, i soldi non sono tutto nella vita. Me ne sono andato dalla terra proprio perché lì la gente pensava solo a quelli. Il denaro, il denaro! Ormai tutto ruotava attorno al denaro e a null'altro. Persino la federazione, con la sua filosofia, non fa che pensare sempre al denaro. Non dico che mi faccia schifo perché mentirei, ma qui a Geraldina, una pietruzza dispersa nel mezzo del nulla, cosa vale in fondo il denaro? Finché sia qui nessuno potrà dirci nulla, con o senza denaro che siamo, non è d'accordo?» Non ci aveva capito molto nel discorso del signor Gerald, ma concordava con l'idea di fondo, perciò annui. «300 notte allora», disse. «Per oggi e domani». «Esatto», confermò l'altro. «Ormai sarà stanco. Non si preoccupi, mi pagherà domani. Prego, vada pure nella sua stanza. Eccole la chiave». Lo straniero la prese, ringraziò e salì la corta rampa di scale che portava al piano di sopra. Mentre compiva il breve tragitto dal salone alla sua nuova camera, pensò alla serie di casi fortuiti che l'avevano condotto lì. «Se Marte non fosse diventato così insicuro, non sarebbe mai partito. Se non avesse avuto mal di testa, non avrebbe mai abbandonato lo spazio porto. Se non si fosse addentrato a Geraldina città, non avrebbe mai scovato quel caffè. Se non si fosse messo a chiacchierare col signor Gerald, non avrebbe mai scoperto quell'opportunità». Mentre girava la chiave nella toppa, si rese conto. «Mi piace qui», pensò. «Non credevo che qua giù, in questa parte ancora semina esplorata, si potesse stare così bene. Ormai si era stancato di Marte e di tutti gli altri posti affollati. Desiderava solo un po' di tranquillità e di pacifica solitudine. Era fuggito dai pianeti interni per cercarsi un posto remoto dove rinnovare la propria persona e rifondare la propria vita e faticava ancora a capacitarsi della fortuna che gliel'aveva fatto trovare così presto. Forse non lo sapeva e nemmeno osava immaginarlo. Ma se alla fine, lì su Geraldina, si fosse trovato bene come sperava, non avrebbe esitato a chiamare quel posticino sperduto in mezzo alla vuota immensità dello spazio cosmico come casa. Fine Racconto scritto e portato da Stazione Verne Audiolibri Lettura di Simone Casi Si ringraziano i nuovi scritti Juana Sese Andrea Rosati Rudy Barborini Letizia Cortini Alfonso Vita Grazie